Le carte se le sono date fra sé e poi mi pare che le abbiano anche nascoste. Il governo non risponde, come ha risposto Binismaghi, ha dimostrato cos'è la razza padrona, ha dimostrato chi sono i sudditi, chi sono i padroni e quindi Arezzo ha subito, l'Italia subisce. Io aspetto che qualche procuratore si renda conto che, siccome ci hanno messo le mani tante volte, io non l'ho mai invocata la magistratura, ma qui mi pare che non ci sia altra via, se qualcuno ha il coraggio di far finire questo scandalo, almeno che ci spieghino quello al quale nessuno risponde. Poi se erano in buona fede e hanno fatto bene, tante scuse.